La Royalty dal setto la passiamo al dieci, quindi tu hai un risparmio, dovresti pagare 414 sul 18 e 27 che non sarebbe neanche a gara, la gara sarà un 15, un 14, un 16, insomma in una gara è a rialza, ne paghi 110 di aumento dal set al 10, i tre punti, 100 sono quelli che dobbiamo dare, e tu hai un risparmio di 104.482 e sei dentro al 10, quindi praticamente quello che io dovrei dare in più sono questi 100.000 euro, di cui io ho ottenuto anche 50 lunedì, prima del Consiglio, l'altro 10 ho messo, ho detto ne rispondo io, mi farà l'assegno, io mi ottengo il servato e poi a marzo, l'apri, a maggio, a giugno, all'ultimo, in maniera che tu ti organizzi con modità, questo è il quadro. Io sono stati per me giorni veramente 4.000 euro a maggio, no, a maggio, c'è, il tempo ha fatto, ti dici io, va bene, l'ho lasciato in bianco, 70.000 euro, tu ci dici che io, oggi quanto ne abbiamo? Due, diciamo che il 2 di aprile, ogni fine mese, ci sono i miei decimi, lei ho talito a te qua, Ok, io ho mai gettai, male, come sono i miei decimi, lei ho talito, l'uomo si deve andare a fare qui, lo so che diteamoribili,